Ha percorso contromano un bel tratto di via Guadagnoli e poco dopo la curva nei pressi dell'Eden è andato a sbattere frontalmente con un'auto che arrivava nel giusto senso di marcia. Alla guida della Panda impazzita un pensionato che probabilmente non si era nemmeno reso conto di quanto stava accadendo. L'episodio ha comprensibilmente mandato il traffico in tilt trattandosi di strada a senso unico. Un'ambulanza del 118 è intervenuta per prestare soccorso alla donna che si è vista piombare in credula l'auto contromano. Sul posto i vigili urbani che hanno chiuso il tratto di strada interessato dall'incidente deviando il traffico in direzione di via Margheritone. Per il pensionato probabilmente la patente diventerà solo un ricordo, un incidente che ripropone il tema della sicurezza alla guida per le persone che hanno superato una certa età.